Il secondo va per altri due Finale primo posto, Torino di Pinzacoli 2019 Primo titolo per i Monsters o terzo per gli Amici dei Piazza Vedremo tra poco Numero 10, Colombo Andrea Numero 10, Tandoi Camilla Numero 8, Furlanetto Luca Partenza piazza Con Michele Cattaneo Cattaneo, due La Roma è la canestra Uh, che palla, che palla Grazie per Barbisane Pagano già i Monsters Devastante partenza Devastante veramente la partenza Vediamo se i Piazzi riusciranno a raddrizzarla Ma intanto Barbisane, tripla Oh, sceltazione Per l'Osa Prova 3, non va Bugatti corre in base, Bugatti segna Niente da fare Contropiede, Colombo Pazzesco come la partita si era stata ammazzata Già nel primo quarto dei Monsters È Longhena, come è Longhena Che palla, super gioco Cattaneo, cattaneo, sbaglia Correzione a golo I Tieghi allo scadere Lenicio un po' a dolore Ai amici di piazza Grandissima, sta 43-17 Buon calanzo di Giulia Vittale Di partita Si sblocca però dalla lunetta 1-27-35 Fulghello Bugatti come un treno Curla, niente È Niccolò Tandoli che ha un po' a canestro Uno, niente, finisce Secondo grado, 69-45 Vespa al canestro Bel movimento, Tibet Sguscia e deposita Rimbalzo Monsters Contropiede Attenzione Bugatti Attenzione Subisce e fa le segna 86-57 Nuovo break pesantissimo Cattaneo, bella entrata Uno contro uno Su Furlanetto Uh, non va Però correge Correge Nu Correge Lota Nu, nu, nu Che lotta Ultimo minuto Tieghi stoppata Furlanetto con rimbalzo in attacco Segna Gran lotta La tripa di Bugatti Bugatti per Colombo Super Finale Super Di terzo e quarto Sperano ancora i piazza Tandoli Scatato E' una Quaroni Quaroni 103 Bugatti Trova il barco Segna Importantissimo 115-101 Alla pressa Bugatti 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 Il contropiede Conti Anesta Quaroni Esce Nicola Tandoi L'uscita di Barbizan Poi applausi E i Monsters Vanno verso il titolo Primo titolo Nello storia Il torneo di Binzago Torneo di casa Bugatti A rotonda L'uscita di Bugatti Matador Assoluto del torneo Bernato Bernato Si ascrive anche lui Il tabellino Valentina Gracia Segna Ci bella che fallo 11 secondi E finirà così Con i Monsters Campioni di Binzago Per la prima volta Nella loro storia Trionfano Sugli amici di Piazza Che comunque hanno fatto Un grande torneo Prima Squadra classificata I Monsters Snent Allee, 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 allee!